Allora, proviamo a rispondere alla domanda che ho lasciato in sospeso prima dell'intervallo, cioè come si combinano le funzioni con le liste o le liste con le funzioni. Cosa succede quando passo una lista? Poi, innanzitutto, se posso passare una lista a una funzione, che cosa succede? E qui andremo a riprendere il discorso della differenza taccopia e alias di una lista. Allora, innanzitutto diciamo che non c'è nessun problema, nessun ostacolo all'usare una lista come argomento di una funzione. Alla fine, un valore di tipo lista può essere passato a una funzione come un parametro della stessa, così come passerai normalmente un valore di tipo intero, un valore di tipo stringa, cioè non c'è nulla di particolare. Quindi, ad esempio, questa funzione che cosa fa? Ipoteticamente fa la somma dei quadrati di una lista di numeri passati all'ingresso e quindi riceve in ingresso una lista, fa delle operazioni su questa lista e restituisce un valore, che in questo caso è la somma dei quadrati. Che cosa succede? Qui ci dà il suggerimento di provare con Python Tutor per vedere cosa succede dentro la memoria. Allora, facciamolo. Prendiamo il Python Tutor e proviamo a scrivere un piccolo programmino in cui definisco una funzione somma dei quadrati di un certo vettore di valori e questa funzione non farà altro che fare appunto la somma quindi la chiama, come la chiama? Totale uguale 0 for elemento in values totale uguale totale più elemento e poi restituisce il totale se non sbaglio, no? Allora, io entro al quadrato alla somma dei quadrati, giusto? Element e poi avrò un piccolo programmino che usa questa funzione quindi magari usiamo il metodo che abbiamo visto la volta scorsa abbiamo un programma principale che chiamiamo main il cui definisco un vettore di valori chiamiamoli con un nome diverso numeri uguale 3 8 9 e poi calcolo la somma dei quadrati di questi numeri chiamando la funzione sum square su numeri 30 somma e alla fine chiamo la funzione main quindi programmini chiedono le funzioni e l'unica differenza è che questa volta abbiamo definito una funzione il cui argomento è pensato per essere una lista infatti gli passo una lista quando chiamo la funzione stessa ok, vediamo cosa succede allora, come sempre quando definiamo delle funzioni alla prima volta che ci passo sopra la funzione viene semplicemente messa da parte quindi quando eseguo la definizione di una funzione parte di tutto mi dice ok hai definito un nome che si chiama sum square sum sq che è una funzione così a questo punto questo nome lo posso usare per chiamare la funzione stessa e idem ho definito una funzione che si chiama main noi non avevamo mai visto questo ma in realtà i nomi di funzione sono come nomi di variabili a tutti gli effetti semplicemente fanno riferimento a un oggetto di tipo function anziché di tipo int o di tipo list adesso eseguo la riglia 12 che è la chiamata alla funzione main la chiamata alla funzione main ovviamente mi porta l'esecuzione alla funzione main stessa all'implementazione della funzione main e mi crea un contesto locale per questa funzione quindi le variabili che definirò da questo momento in avanti finché sono dentro la funzione main sono funzioni private di questa funzione sono variabili private di questa funzione che cesseranno di esistere quando la funzione terminerà e non saranno visibili dalle altre funzioni infatti quando io definisco la lista numeri quindi ho eseguito l'istruzione 8 lei mi ha creato una variabile numeri che è una variabile locale alla funzione main fin qui nulla di nuovo abbiamo definito una variabile dentro una funzione ok lo sapevamo già fare quando abbiamo visto le funzioni questa variabile è una variabile appunto a un valore di tipo lista e vabbè niente di speciale le liste le abbiamo appena viste quindi finora non ci sono interazioni particolari poi a questo punto chiamo la funzione insomma dei quadrati passando come argomento la lista che ho appena creato quindi chiamare una funzione significa che nel mio programma avrò un ulteriore ambito in cui sono definite le variabili locali di questa lista e in particolare all'interno delle variabili locali di questa funzione scusate la funzione somma dei quadrati in particolare tra le variabili locali della funzione sum square viene aggiunto automaticamente vengono aggiunti automaticamente tutti gli argomenti della funzione tutti i parametri della funzione in questo caso la funzione aveva un parametro che si chiamava che si chiamava values e quindi viene prima ancora vedete dove è la freccia di recusione ancora qua prima ancora che io esegua il corpo della funzione viene creata una variabile locale che si chiama values e questa variabile locale viene inizializzata col valore dell'argomento che era stato passato qua è come se io scrivessi values uguale numeri solo che non lo potrò mai scrivere values uguale numeri perché values è una variabile locale di una funzione e numeri nella variabile locale di un'altra funzione quindi non si possono vedere però la chiamata della funzione fa questo values uguale numeri e quindi ricordiamoci cosa fa uguale uguale crea un alias alla lista esistente infatti vedo che sia values punta a una lista che è la stessa lista a cui puntava numeri ok quindi quando io uso una lista come argomento di una funzione la funzione riceve un alias un riferimento alla stessa lista che ho nel programma principale questo vuol dire che se per caso la funzione modificasse il contenuto di quella lista la modifica avverrebbe anche nel programma principale cioè non è che avviene anche è che la lista è la stessa ok quindi questo meccanismo che in realtà è il normale meccanismo di python passa un valore alla funzione e quindi se ho due variabili in due funzioni diverse che puntano lo stesso valore quello è se lo modifico da una parte lo vedrò modificato anche arrivandoci dall'altra questo fa sì che una funzione possa se lo vuole modificare il contenuto di una lista passata come argomento se lo vuole è mica obbligato questo problema ci lo poniamo adesso con le liste perché con gli interi con le stringhe essendo dati immutabili non c'era il problema stesso quindi abbiamo due famiglie di funzioni adesso vediamo finire questa esecuzione ma abbiamo due famiglie di funzioni ci saranno le funzioni come questa che non modificano i propri argomenti non gli fa un baffo non gli interessa e allora di tutto questo meccanismo di cui stiamo parlando non c'è nessun problema ci sono invece le funzioni che vorranno che per lo scopo che devono avere che non so prima abbiamo visto la funzione shuffle la funzione shuffle prende una lista e la rimescola rimescola quella lista lì che ti ho dato io ok e quindi è giusto che la debba poter modificare in quel caso dovremmo fare attenzione ma lo vediamo tra un attimo a non perdere l'alias che abbiamo ottenuto ok a usare solamente metodi che modifichino sempre solo la lista data e non mi creino mai una lista nuova perché altrimenti rischio di modificare la lista diversa da quella che pensavo ma ci arriviamo questo qui è un programma invece semplice che non ha bisogno di modificare la lista quindi definisce questa variabile locale tot 0 e poi prende element qui c'è il ciclo for che cicla sulla lista quindi il primo valore che element acquisisce è il valore del primo elemento della lista vedete che element punta a questo valore che è lista di 0 valgis di 0 e incrementa il totale e lo fa diventare casualmente 9 in questo caso punta un 9 che poi lì non c'entra niente semplicemente perché è il quadrato di 3 poi vado avanti element punta al secondo elemento 8 e quindi il quadrato diventa la somma dei quadrati 3 al quadrato più 8 al quadrato fa 73 vado ancora avanti element punta al 9 quindi a 73 sommerò 81 che mi fa 174 e alla fine ho un valore di ritorno sono arrivato all'istruzione return che restituirà al chiamante il valore 154 il chiamante lo metterà nella variabile somma adesso quando io clicco su vai avanti ovviamente questo blocco qua azzurro scomparirà perché ho finito l'esecuzione della funzione somma dei quadrati e torno all'esecuzione della funzione main quindi queste sono tutte variabili locali compreso values che è una variabile locale che scompare ma ovviamente la lista sotto non scompare perché è ancora puntata è ancora tenuta in vita da una variabile in un'altra funzione che la utilizza in realtà il python tutor mi sta facendo vedere il passaggino che dice guarda questo valore tot che era in una variabile locale la variabile locale muore allora prima di morire mi salvo una copia del valore di questa variabile locale in un valore di ritorno che è quello che viene effettivamente usato per creare la variabile creare e assegnare la variabile somma e poi la stampo e stamperò 154 poi lui mi sta dicendo cosa mi sta ancora dicendo ah la main sta per finire la main la funzione main non ha nessuna istruzione return e quindi implicito c'è un return all'ultima istruzione che non ritorna nessun valore non ha nessun valore perché nessuno lo va a leggere e quindi torno ho finito l'esecuzione del programma ok però eravamo in questo durante l'esecuzione della funzione eravamo più o meno in questa fase qui in cui abbiamo visto come i parametri di una funzione qualora una funzione riceva come argomento di un parametro una lista all'interno all'interno della funzione ricevo un alias della lista stessa questo è il punto chiave tutto il resto del ragionamento che faremo adesso è la conseguenza di questo fatto dimmi allora qui non hai bisogno qui non allora hai detto due cose ehm sì io posso avere vediamo altri esempi di funzioni che non siano queste di calcolo semplice immaginiamo di avere una funzione che vuole modificare una lista che deve calcolare ad esempio pensiamo di fare una funzione che converte una lista ricordate la volta scorsa avevamo una lista che otteneva delle stringhe ma che in realtà erano dei numeri e quindi abbiamo dovuto convertire le stringhe in numeri uno per uno ok? quindi possiamo immaginarci di uns liste teniamolo così di voler convertire una converti una lista di di stringhe in una lista in una lista di numeri quindi da qualcosa tipo stringa 3 stringa 99 la fai diventare 3,99 quindi chiami int sui singoli elementi della funzione ok? allora come posso fare posso definire una funzione che vada proprio a modificare la lista stessa gli elementi stessi della lista quindi chiamiamola strtwint e ha un parametro che sono i valori e cosa può fare questa funzione? iterare sui singoli elementi e modificarli quindi for i in range length valori valori di uguale int valori di quindi in questo caso potrei avere un programma iniziale che legge dei dati e questi dati sono appunto il nostro 3 e il nostro 99 quindi li posso stampare e poi li posso convertire da stringa intera questi dati e quando li stamperò li vedrò come numeri interi ciò che è successo è proprio quello che dicevamo io passo la funzione una lista la funzione da dati che ho chiamato dati nel programma esterno valori e qui come se facessi valori uguali dati quindi valori diventa un alias di dati e qualunque modifica io faccia al contenuto di valori ad esempio lo una funzione che mi modifica una lista un'altra possibilità potrebbe invece essere di definire una funzione che crea una nuova lista modificata e in questo caso la deve restituire al chiamante quindi in questo caso per fare la stessa operazione quindi questa modifica la lista parametro ricevuta come parametro ma io potrei ottenere lo stesso effetto diciamo applicare lo stesso algoritmo non modificando la lista ma ritornando restituindo restituisce una nuova lista elaborata quindi in questo caso come funzionerebbe una funzione beh devo dare ovviamente un nome diverso quindi str2int nuova str2int nome stupido scusatemi ma non me ne vengono i migliori e cosa farebbe questa altra funzione costruisce una nuova string una nuova lista dentro quale dentro la quale va a mettere gli interi quindi questa nuova lista sarà proprio chiamiamola nuova partiamo da vuoto e per tutti gli elementi tutti i valori di valori for v in valori nuova punto append in tdv quindi 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 mentre prima valore di uguale vado a modificare attraverso l'alias che ho ricevuto la stringa la lista originale qui non ho nessuna istruzione che mi vada a modificare i valori la sto semplicemente leggendo la leggo per poterci iterare sopra leggo i singoli valori per poterli usare e sto costruendo una lista in una variabile che non c'entra nulla variabile che finora è una variabile locale di questa funzione nuova ovviamente se questo valore serve al programma principale dovrò necessariamente poi restituirla al programma principale stesso in modo che la possa usare perché se no ho creato una bellissima variabile locale con i valori con il calcolo più bello del mondo ma muore con me muore quando la funzione finisce quindi questo esempio è un argomento molto semplice converti string in interi ma implementato con due funzioni che ragionano con logiche diverse crea una nuova lista che oppure modifica la lista ovviamente vanno bene entrambe basta sapere cosa stiamo facendo nel secondo caso come dovrei usare il programma beh il programma non lo userai più così fatemi scrivere un'altra parte di programma che non chiamo più dati me lo chiamo dati due oggi è la giornata della fantasia e dovrei scrivere usare il valore di ritorno della funzione commento questo così non ci da fastidio per il momento ho sempre gli stessi dati chiamo questa funzione nuova che mi crea una lista nuova partendo dagli stessi dati e poi verificherò che i dati due non sono cambiati ma la lista nuova questi dati nuovi contiene i valori modificati quindi questa stampa qui è la lista qui prima di chiamare la funzione questa stampa qui è la lista in questo punto dopo che è chiamata la funzione che non è cambiata perché questa funzione non modifica la lista questa lista qui è un'altra lista che è il valore di ritorno di questa funzione come funziona il valore di ritorno funziona come abbiamo appena visto in Python Tutor che la funzione che sta per morire restituisce al chiamante un riferimento al valore di ritorno che poi il chiamante può salvarsi e utilizzare che questo valore di ritorno faccia riferimento a un intero il numero di prima 140 erotti oppure una lista è sempre un valore dal punto di vista di Python non cambia nulla proviamo a vedere questo togliamo i commenti vediamolo girare in Python Tutor così vediamo le freccioline che vanno avanti quindi noi abbiamo queste due funzioni che stiamo definendo e poi abbiamo il programma principale il programma principale definisce questa lista la stampa e vabbè quindi è facile definisce la lista dati la stampa là sopra e poi chiama la funzione di conversione quando entro nella funzione ovviamente valori è un alias di dati entrambi puntano la stessa lista vado avanti itero sul range dei valori e va bene i vale 0 e qui sto facendo l'istruzione valore di 0 uguale int valore di 0 allora sul lato destro valore di 0 attualmente è una stringa che vale 3 l'int di questa cosa qui è il numero 3 e dove lo vado a memorizzare qui quindi starò creando un valore 3 da qualche parte me lo metterà nella figura e questa freccia anziché puntare al 3 stringa punta al 3 intero me l'ho messo qua sotto e così per il secondo elemento quando i vale 1 succede la stessa cosa questa cosa non punta più alla stringa 99 ma punterà a un intero 99 che è stato creato poi questa funzione non ritorna non restituisce nulla non c'è un return di alcun valore ma questa funzione come si dice in gergo ha avuto degli effetti collaterali cioè il fatto di aver chiamato questa funzione ha cambiato i valori di alcune variabili questa funzione non calcola niente fa cose e cosa fa è modificare le variabili che le ho dato non lo farà di nascosto e quindi quando torna il programma il programma principale qui si trova che questa dati è cambiata non è cambiata la lista la lista è sempre la stessa sono cambiati i valori contenuti nella lista è cambiato il contenuto della lista non è cambiata la lista e questa differenza non è solo linguistica sostanziale la lista è sempre la stessa ma i valori di nascosto contenuti sono stati aggiornati modificati nel secondo caso vabbè dati 2 è un'altra lista qui la ricreo da 0 quindi non ci sono dubbi che sia un'altra roba non ci andiamo a festare i piedi con l'altra parte del programma e quando entro nella funzione l'altra la storia comincia nello stesso modo nel senso che ovviamente l'altra funzione valori uguali dati 2 gli argomenti della funzione sono sempre inizializzati come alias degli argomenti passati dal chiamante non cambia nulla la regola è sempre la stessa dipende solo come lo uso io quel valore non ci sono meccanismi diversi sono alcuni altri linguaggi di programmazione in cui devo decidere se passare una copia passare il riferimento no in python funziona tutto nello stesso modo ottengo un riferimento al valore e quindi è un alias si comporta come un alias se voglio lo posso modificare se non voglio non lo modifico in questo caso non voglio modificarlo quindi questo valori lo userò ovviamente per leggere il contenuto di questa lista ma nel frattempo sto costruendo il valore di ritorno in un'altra variabile nuova locale che in questo caso è una variabile di tipo lista che parte vuota e si riempie poco per volta con i valori presi da vedete iv è l'elemento della della lista sottostante convertito in intero adesso purtroppo abbiamo ancora questa cosa qua e quindi il 399 sembrano condivisi perché è lo stesso valore che abbiamo appena calcolato quindi la funzione quando sta per tornare avrà valori che continuano a essere il suo parametro che continuano a essere un alias che continuano a essere un alias alla dati 2 del programma chiamante che nessuno ha mai modificato né toccato e poi variabile locale nuova che fa riferimento a una lista nuova che contiene i valori in questo caso convertiti in interi elaborati il return cosa fa? crea un alias a questa lista nuova perché ovviamente nuova come variabile sta per scomparire e questo alias viene restituito al chiamante questa freccina qua return value che punta a questa lista è ciò che viene restituito in questa istruzione qua 25 perdon dove il valore di ritorno della funzione viene usato e memorizzato all'interno di un'altra variabile nuova nel programma principale e quindi vediamo che questo blocco qua scomparirà scompare nuova che è un alias di return value scompare valori che è un alias di dati 2 ma sotto dati 2 comparirà dati nuovi che continua a puntare a quella lista di sotto che non si è spostata era quella che prima si chiamava nuova all'interno della funzione quindi è come se io avessi scritto dati nuovi uguale nuova cioè passare liste avanti e indietro tra funzioni è un modo indiretto di fare uguale tra variabili che stanno in ambiti diversi il passaggio di un parametro è una funzione inizializza una variabile locale con un alias del valore che è stato passato pensate proprio di vedere un uguale e si comporta nello stesso modo il return la stessa cosa è come se io facessi appunto vi ho detto dati nuovi uguale nuova cosa che non potrò mai scrivere perché fanno parte di funzioni diverse ma la risoluzione del return ottiene questo effetto qua adesso nel return è meno grave perché a questo punto questa lista non è più alias di niente è alias di qualcosa che è morto che non c'è più quindi è mia la posso modificare come voglio è una lista nuova che la funzione ha creata apposta per me il valore di ritorno non è non crea diciamo così grattacapi per me è comunque una lista nuova che è diversa e distinta da quella precedente che continua ad avere quindi il meccanismo come dicevo è sempre lo stesso le funzioni come indicato qua ma come ben già visto possono tranquillamente modificare i valori di una lista ricevuta se usano ovviamente se abbiamo l'accortezza dentro le funzioni di usare solo operazioni che vadano a modificare la lista e mai a creare una lista nuova perché altrimenti rischieremo di come si dice perdere l'alias questo qua è l'esempio che abbiamo già visto su Python Tutor e questo è un altro esempio in cui la funzione ricordate la costruzione della lista con i quadrati dei numeri interi ecco qui l'ho fatto vedere lo stesso codice dentro una funzione che riceve valore di n e restituisce la lista dei quadrati la lista contenente i quadrati da 0 n nulla di speciale semplicemente il return di una lista nuova costruita dentro la funzione i grattacapi nascono quando dobbiamo fare attenzione quindi quando io passo una lista a una funzione e la funzione non vuole modificare quella lista nessun problema quando ritorno un valore di una funzione una lista come valore di ritorno di una funzione anche qua nessun problema perché è comunque una lista nuova e quindi il programma chiamante sarà poi l'unico possessore di quella lista i problemi nascono quando la funzione deve modificare la lista e quindi vogliamo essere sicuri di lavorare sempre su l'alias della lista precedente e di non capitare mai per sbaglio in una copia della funzione ad esempio ci sono vari metodi che abbiamo visto e vari operatori che funzionano sulle liste e questi metodi tutte queste operazioni vanno a modificare i valori contenuti nella lista quindi values d uguale int di values d values d per 0 uguale 77 uguale pi greco mezzi ok non vado a modificare la lista vado a modificare un valore contenuto dentro la lista ma la lista come contenitore se ne rimane bella tranquilla append append aggiunge un elemento a una lista esistente non crea una lista nuova bene insert anche inserisce un elemento in una lista esistente senza che se io anziché append 5 avessi fatto usato quest'altra scrittura qua valori uguale valori più concateno una lista di un elemento a occhio sto facendo la stessa cosa guardiamolo nella console per capire perché mi sto ponendo il problema se io ho i valori uguale 1 2 3 beh valori vale 1 2 3 fin qua se faccio valori appunto append di 4 cosa avrò? avrò che valori adesso vale 1 2 3 4 ma avrei anche potuto fare valori uguale valori più 5 al più concatena le liste no? quindi non posso sommare 5 come numero devo creare una lista con un elemento solo e quindi avrò una lista da 4 concatenata con una lista da 1 e a occhio è uguale cioè l'effetto dell'appende l'effetto della concatenazione mi ha dato comunque il fatto che i valori adesso abbiano un elemento in più se lo stampo lo vedo giusto la differenza la vedo solo quando io provassi a mettere queste operazioni dentro una funzione immaginiamo di fare una funzione aggiungi ad una lista di valori aggiungi un numero io potrei dire valori uguale valori più numero quindi quindi il mio programma principale cosa potrà fare cosa potrà fare sì io avrò dei numeri che ne so appunto abbiamo detto 1,2,3,4 poi faccio aggiungi ai numeri 5 print numeri ok fatemi commentare sulla parte di sopra quindi io creo una lista di 4 elementi poi una funzione che ne aggiunge uno in fondo è una funzione che valori è un parametro che ho ricevuto mi modifica questo valore questo parametro però se invece eseguissi questa funzione mi stampa 1,2,3,4 e non 1,2,3,4,5 se invece la implementassi scrivendo valori punto appende di numero me lo aggiungerebbe correttamente qual è la differenza? vediamola con Python Tutor che salta all'occhio prendiamo questo semplice programmino e lo mettiamo qua dentro vediamo la prima la versione con l'appende è quella che funziona ok quella che funzionava bene e quindi definisco numeri come lista chiamo la funzione aggiungi che ha due parametri due argomenti valori uguale numeri e quindi valori sarà un alias a questa lista numero uguale 5 ok valori è un alias alla lista numero uguale 5 qua sotto poi eseguo la funzione fa questo append append è un metodo che modifica la lista valori quindi modifica questa lista qua gialla sotto aggiungendogli un altro elemento essendo questa valori ancora un alias di numeri ovviamente guardando arrivando da numeri vedrò che questo elemento è stato aggiunto infatti quando torno al programma principale numeri contiene questi 5 elementi ho modificato una lista usando append che è un operatore è un metodo che modifica le liste se invece io cambiassi e usassi quest'altro metodo quest'altro diciamo costrutto cosa succede? beh fin qui non cambia nulla ovviamente cambia l'esecuzione di questa linea 2 pensiamo a cosa fa python uguale assegnazione quindi calcolo il valore che c'è a destra dell'uguale e lo assegno come valore alla variabile che c'è a sinistra dell'uguale è una frase che avrò ripetuto mille volte ma è sempre lei quello che ogni volta diventa più complicato ciò che succede a destra dell'uguale ho una concatenazione di due liste allora il pezzo di concatenazione è creare la lista concatenata parola chiave crea crea una lista concatenata delle due questa nuova lista che è la concatenazione la assegno a una variabile valori che non esiste ancora dentro questa funzione quindi di fatto ne sto creando una nuova vedete che valori è stato staccato torno indietro prima puntava all'alias era un alias di numeri e adesso valori punta una lista nuova tutta per sé punta il valore che è stato calcolato dalla concatenazione che ha creato una nuova lista quindi in questo caso quest'uguale che è la colpa di tutto l'uguale non modifica la lista l'uguale modifica la variabile quindi la variabile valori che ho cambiato la lista è rimasta uguale tra l'altro non solo è rimasta uguale ma ho perso dalla funzione ogni riferimento quella lista lì quindi l'ho persa proprio non ho più nessuna variabile locale dentro la funzione aggiungi che mi permetta di accedere alla lista di numeri originale in gergo diciamo che ho perso l'alias inavvertitamente credevo di modificare la lista invece anziché modificare la lista ho modificato la variabile modificare la variabile vuol dire che questa variabile adesso sarà una variabile privata locale non è più un alias di quello di prima e ogni modifica che io facessi a questo punto al valore di questa lista valori è una modifica che va solamente più ad agire a questa lista locale e non potrà essere vista dal programma chiamante e se volessi andare a prendere gli elementi originali da qua non posso più ok cosa hanno in comune torniamo alla slide le operazioni che perdono in cui perdo l'alias dalle operazioni in cui invece mantengo l'alias perché modifico direttamente i valori della lista e non la variabile che punta alla lista e in comune c'è che qua c'è un uguale e sopra non c'è questo uguale ricordiamoci in python l'uguale non modifica un valore modifica una variabile che punterà al nuovo valore se il nuovo valore è la lista di partenza allora crea un alias se il nuovo valore è risultato di un'operazione ermetica una concatenazione una costante o altro e allora sto creando sto facendo puntare a un nuovo oggetto che non ha più nessuna relazione con quello precedente o a volte mi serve a volte può essere utile dire ok nella funzione senti facciamoci una copia così non rischiamo di sporcare non voglio rischiare di lavorare con un alias di un dato che non è mio perché magari devo rimescolare i dati e non voglio che vengano rimescolati nel chiamante allora me ne faccio una copia sgancio l'alias mi prendo i valori e poi me li faccio occo oppure di fatto modifico scelgo io di modificare o di lavorare su una copia e non sulla lista originale ma se invece voglio usare la lista originale devo essere attento e usare solamente i metodi che nella documentazione c'è proprio scritto che modificano la lista e non restituiscono una lista nuova quindi append per fortuna è così quindi aggiungi l'append o extend se avessi append aggiungi un elemento e extend aggiungi una lista e non la concatenazione per ordinare la lista devo usare il metodo sort che ordina la lista stessa e non la funzione sorted che restituisce una nuova funzione quello che ci inganna è che values e values qua sembrano la stessa variabile in realtà no ok questo è il valore della variabile prima dell'esecuzione dell'uguale e questo è il valore che viene assegnato alla variabile quindi qua sto perdendo il collegamento questo è l'unico punto in cui dobbiamo fare veramente attenzione perché altrimenti rischiamo di avere una funzione che da metà in avanti sta lavorando su una lista che non è più quella giusta e il programma principale non vedrà le modifiche che in realtà devo fare e questo è allora ad esempio la funzione che avevamo visto prima su mescolare il mazzo nella documentazione ovviamente queste cose sono sempre messe in evidenza ad esempio mi dice in place rimescola la lista al suo interno della lista stessa se io facessi stessa cosa mazzo.sort la documentazione di sort mi dice the sort is in place cioè la lista stessa viene modificata la stessa lista viene modificata non un'altra mentre invece se facessi sort di mazzo mi dice restituisce una nuova lista a prima vista non ci facciamo a caso ma quando sappiamo che c'è questa differenza ogni volta che ci sono una lista io vado sempre a cercarmi la parolina per vedere ok calcola qualcosa di nuovo oppure modifica quello esistente perché so che se ho una funzione che devo modificare una lista sono obbligato tra virgolette a usare solamente metodi che modifichino l'esistente tra cui la modifica di un singolo elemento allora io ho detto facciamo attenzione all'uguale l'uguale è pericoloso brutto perché mi modifica la variabile e questa variabile a questo punto punterà un valore nuovo e non punta più c'è sta di essere un alias del valore precedente però anche qua c'è un uguale ma questo uguale qua è buono è benigno perché non va a modificare la variabile values ma va a modificare il contenuto di una delle caselle della variabile values la variabile values in sé non cambia quindi se volessimo per dire svuotare una lista quindi a zerare una funzione che data una lista la svuota cancella tutto ciò che c'è dentro dovrei usare ad esempio la funzione valori punto clear che è una funzione che rimuove gli elementi dalla lista quindi non calcola una lista nuova e quindi la rende vuota mantenendo l'alias modificando la lista stessa oppure se non mi ricordo che esiste la funzione clear non devo mai scrivere valore uguale vuoto perché qui non sto azzerando la lista che ho ricevuto come parametro ma ne sto creando un'altra vuota ma ad esempio potrei scrivere delle cose un pochino più strane tipo così la porzione di valori che contiene tutti gli elementi viene sostituita dalla lista vuota ma valori rimane la lista rimane semplicemente ho tolto gli elementi dal suo interno quindi ho assegnato un nuovo valore agli elementi della lista non ho assegnato un nuovo valore alla variabile valori che punta alla lista quindi a volte siamo costretti ovviamente l'effetto è quello di azzerare la lista a volte siamo costretti a scrivere delle cose un po' strane proprio per evitare di scrivere questo valori uguale quando siete arrivati qua variabile di tipo lista uguale prendetevi due millisecondi di pausa mentale e chiedetevi è quello che voglio fare voglio sganciarmi dall'alias e continuare con una variabile mia locale se sì benissimo andiamo avanti se no trovo un altro modo per scrivere la stessa cosa se non voglio perdere l'alias ok e voglio continuare con la variabile iniziale ok questo ci servirà ovviamente oggi non abbiamo tempo per provare a inserire il meccanismo di generazione del mazzo di mescolamento della carta eccetera sotto forma di funzioni all'interno del nostro gioco così dovremmo effettivamente chiederci una funzione che dalle carte ovviamente deve poter modificare il mazzo e quindi devo essere sicuro di modificare la variabile di partenza mentre invece la mano data al giocatore può essere tranquillamente una lista nuova ogni volta non c'è nulla da modificare perché tanto parto da zero ok quindi ci ragioneremo poi per metterli insieme io prima di lasciarvi però voglio vorrei dove è finito no più avanti forse parlarvi di ok di una scorciatoia vista che oggi ne abbiamo viste parecchie di una scorciatoia in python in particolare di questo linguaggio semplice ma comoda cioè noi per creare una lista alla fine abbiamo sempre adottato questo schema parto da una lista vuota ciclo che in qualche modo itera sugli elementi che devo generare nel caso del mazzo era un doppio ciclo ma è uguale e poi append sia che debba creare qualcosa da zero sia che debba magari creare una lista partendo da un'altra lista esistente per qualche motivo ok va bene ho tre istruzioni che sono sempre le stesse crea vuoto itera append c'è una sintassi semplificata che si chiama comprehension che è una parola strana non ho mai sentito prima di di aprire il libro di python infatti sono andato a cercare che cacchio volesse dire era in inglese antico si chiamava includere comprendere nel senso figurato ci sta ancora però qui parliamo di inclusione fisica no? è una sintesi semplificata che fa così aperta quadra valori for elemento in contenitore cioè alla fine cosa stiamo facendo? pensiamo di prendere questo codice qua che era nella slide precedente c'era questo qua giorni era una lista che conteneva i giorni della settimana che erano stringhe e qua costruiva una lista di interi equivalenti alla lunghezza in carattere del giorno della settimana quindi nella prima posizione c'era 6 perché 6 era il numero di lettere che compongono una parola lunedì e così via quindi ho un ciclo che itera i valori da creare in qualche modo un calcolo da fare quindi cosa devo metterci dentro e poi ho l'appende e l'inizializzazione inizializza e aggiungi tutto questo si può condensare in un'unica riga usando questa sintassi tra parentesi quadre il valore che voglio aggiungere quindi sottointeso append e il ciclo for che mi fa iterare questa non è un'istruzione for completa con due punti a capo è semplicemente una clausola qua dentro quindi dentro queste parentesi quadre ci stanno tre pezzi il valore che voglio mettere la variabile di comodo che mi serve per iterare su questi elementi e il contenitore da cui pesco che può essere anche un range per gestire l'iterazione però la parentesi quadre dice fammi una lista che contenga la lunghezza del giorno per tutti i giorni che sono contenuti nella lista giorni sembra anche un po' quando definiamo un insieme in matematica x al quadrato per ogni x tale che x appartiene a un certo insieme e qui è la stessa cosa una funzione la lunghezza per una certa variabile muta che itera su un certo insieme ad esempio nel nostro esercizio che abbiamo fatto prima quando è che ci è capitato no qua dovevamo dove volevamo convertire una lista di stringhe in una lista di interi prendiamo la parte più facile quella che non modifica la lista questa qua ah no ho messo qui i commenti qua scusate vabbè per lo stesso questa stessa cosa vedete che qua creo una lista nuova in cui appendo l'int dei valori presenti nella lista vecchia questo l'avrei potuto scrivere semplicemente con nuova uguale comprehension una lista che contiene int di v per tutti i valori in valori è la stessa cosa ok è un modo molto più compatto e di nuovo è più diretto perché mi dice sto creando una lista e la sto creando con elementi che sono calcolati in questo modo la stessa cosa che faccio con il ciclo for però il ciclo for devo sempre ricordarmi di inizializzare quindi che sia che questa lista qua sia la stessa di cui faccio append insomma gli stessi concetti sono sparsi su tre righe se devo solo ovviamente creare una lista nuova con un meccanismo di questo genere si può usare questa sintassi semplificata si può anche complicare un pochino questa sintassi aggiungendo una clausola se voglio fare questa operazione non su tutti gli elementi ma solo su alcuni quindi converti le stringhe in interi se questa stringa è lunga più di due caratteri o se questa stringa non contiene un punto esclamativo quindi in questa questa istruzione if di fatto agisce sul for dice ok prendi tutti gli elementi nel contenitore ma per ciascuno di questi controlla se verificano una certa condizione se verificano questa condizione applica l'espressione all'elemento che ho preso e aggiungi il valore calcolato di questa espressione alla lista che stai costruendo quindi alla fine qui questo qua cosa sta facendo sta creando una lista che contiene solamente i giorni accentati giorno for giorno in giorni sembra un po' una ripetizione ma quello che sta dicendo è partiamo dal for for giorno in giorni itera sulla lista che contiene i giorni della settimana e chiama giorno ogni singolo elemento nella lista che sto creando che cosa ci metto ci metto giorno quindi quando questa variabile qua coincide con questa variabile qua in realtà sto esattamente copiando gli elementi non sto trasformando gli elementi non sto facendo l'int di giorno non sto facendo l'en di giorno non sto facendo altre cose sto creando una lista che contiene gli elementi di un'altra lista tali e quali ma magari non tutti non tutti perché prendono solamente quelli e qui c'è l'if che finiscono per riaccentata quindi sabato e domenica non c'è non ci sono quindi posso usare questa sintassi per costruire una lista elaborata a partire da un'altra lista oppure una lista che contiene elementi diversi valori diversi oppure una lista che contiene gli stessi valori ma magari filtrati magari selezionati in questo caso qua mi mette una lista con tutti i multipli di 3 o di 5 tra 0 e 100 quindi genera con un range tutti i numeri tra 1 e 100 tutti i numeri tra 1 e 100 e se sono multipli di 3 o di 5 li include l'ultimo passaggio diciamo l'ultima complicazione diciamo di questa sintassi è il fatto che la clausola for si può anche ripetere più di una volta e in questo caso Udo di fatto sto creando dei cicli annidati adesso non ci andrei troppo fiero di queste sintassi qua perché rischiano di essere poco leggibili io questa cosa l'avrei potuto usare nella creazione del mazzo dove c'era il doppio ciclo con l'append dentro si sarebbe potuto scrivere semplicemente mazzo uguale e è facile ricordare cosa fa la comprehension aperta quadra e aperta quadra vuol dire crea una lista cosa ci mette dentro questa lista beh ci mette valore più seme e da dove li prende beh il valore lo prende da valori e seme lo prende in semi questi due fori uno dopo l'altro ovviamente fanno tutte le combinazioni questo era facile perché è una cosa molto regolare se fosse la cosa più complessa magari mi consiglierei di usare i for così è più esplicito cosa sto facendo però nei casi semplici risparmio spazio e vado avanti non posso che lasciarvi al divertimento dei laboratori di questa settimana dove giocherete un pochino con le liste arrivederci